E' un gioco che ti prende il cuore e te lo fa a pezzo. Stiamo parlando di... 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 Stiamo parlando... Stiamo parlando di... 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 Ma che schifo Ci sono le persone cannibali Qui Un altro fogliettino Vediamo un po' Autorizzazione al sequestro Ok Non ho capito un cazzo comunque Ma perché ci sono sti suoni ogni volta che chiudo una lettera Cos'è indemoniata la lettera Cosa fai per aprire che c'è un banco davanti Ah devo dire ordinati comunque Questi qua amici miei Qua c'è una porta aperta Immagino che devo andare di qua io Non devo andare di qua Non devo andare di qua io vado di qua Che c'è un'altra porta aperta E vado di qua Sì 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 Vado di qua che mi sembra molto più Invitante la cosa Ah mi posso scorgere C'è un bell'amichetto Stai fermo Stai fermo Bravo Stai lì Stai lì Ehi Giocati a Call of Duty? No Direi proprio di no C'è una tipa che urla in sottofondo Che cos'è sta cosa? Cos'è? Un badge Prendiamo il badge Dai cadaveri Sì mi piace così Adesso immagino che dovrò tornare di qua Giù soltanto lì è chiuso Non guardo neanche No Vai avanti Passato attraverso le trap Ma aspettate che esca De ring voi O è già uscito Perché vedo questa Chiazzona di sangue qui Che mi ispira Beh Bene Comunque Sicurezza eh Ciao Adesso questo si alza Io lo so Non mi spaventerai L'ho detto che non mi spaventava Dai Spasmi Mi segui Vuoi seguirmi? I con piedi in bocca Non c'è nessuno Io nel dubbio Vado dove devo andare Chiudiamo la porta Se sicurezza Eh sai una postazione da gaming così? Che figata Allora Facciamo quello che dobbiamo fare Che non mi ricordo neanche Cod'è Security system Accessing security system Qua ditele che No? Cosa fai? Non è la corrente quella vero? È la corrente Dov'è la telecamera? Dov'è la telecamera? Dov'è la telecamera? Via 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 Io lo so che arriva qualcuno Adesso ne sono sicuro Ne sono sicuro Ne sono sicuro Lo sento Lo sento Lo sento Dimmi che non è Hulk Ti prego Ti prego dimmi che non è Hulk Dimmi che non è Hulk È Hulk Ho detto che era Hulk Ma che sei brutto forte però eh Che cazzo? Tu sei feticista contro i maiali Ma che problemi hai? Ciao Bravo Vatti Ma io aspetterei qua ancora qualche minuto Eh Sai Non si sa mai Non vorrei che Ecco Sparito Io nel dubbio vado di qua Oh cazzo Che io vado dietro Pento tutto Già prima era poco inquietante Adesso poi è tutto buio Olè Smesso Facciamo così Tanto Sbattila pure Tanto non fai casino Giuro E qua dobbiamo passare qui in mezzo Qui Oh C'è un Adesso mi metto qua così E me lo leggo un attimo Mkultracia Omicidio sotto ipnosi Wow Ma perché ogni volta che chiudo sti fogli Deve esserci sto suono Che mi cago addosso Eh Se tolgo la tele Ah ok Un pochino uscire Questa è chiusa Non si vede niente Questa è un'altra O è sempre la stessa No ok è un'altra Io chiudo Ma non si sa mai Tiriamo questo Eh sti cazzi Via Via Nasconditi Vai sotto letto Bravo Spegno la videocamera Che si scaricano le batterie Che ne ho bisogno Ne ho poche Ciao amico Cosa fa? Oddio che culo Posso uscire Io esco Amico Ehi Ma quanto sei brutto Ma cos'è? Maria E ma come faccio Ad andare in giro Senza farmi sentire Che questo Appena mi muovo Mi sente Ah no Forse chiude adesso Vabbè Io la provo raga Sti cazzi Corri 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 Posso dover nasconderci Posso dover nascondersi Perfetto Lo so per certo Che verrà fino qua io Ci scommetto Quello che volete Ecco appunto L'avevo detto No Ti prego Nemica non lo apre Oddio Ma non vedo se se ne va però Penso di sì Non lo so Dove è andato? Ok Ok là sopra Mamma che brutto Ma che si ricarica la Aspetta Come si ricarica la La cazzo di Ricarica batteria Triangolo Ok Non lo vedo Non l'ho visto Rientrare di là però No Niente Devo capire Cosa che devo fare Allora Io direi Che per il momento Possiamo finirla qua Fatemi sapere Se il video vi è piaciuto Io vi invito A lasciare Un like A iscrivervi al canale Se non l'avete già fatto Attivare la campanellina A condividere con i vostri amici Lasciarmi un commento Sotto in descrizione Trovate i link Per la mia pagina Facebook Instagram E Twitter Vi invito a passare Anche da lì E niente Ripeto Fatemi sapere Con dei like O dei commenti O per chi mi conosce Di persona Mi scriva Anche Così da capire Se vi è piaciuto E in modo da Poterlo riportare Comunque E niente Noi ci becchiamo Al prossimo video Spero vi sia piaciuto Bella Ciao